Il mestiere del politico è un mestiere come tutti gli altri, anzi secondo me è la rappresentanza di quello che sono i cittadini, quindi come io facevo il pendolare prima di far politica, poi se ci sono naturalmente motivi di sicurezza o altro, questo sarà poi il problema anche del Presidente della Camera, deve continuare a fare la vita così com'è, anzi il politico deve avere ancora di più i piedi per terra, perché spesse volte non si ricorda neanche quanto costa un chilo di pane, non si ricorda neanche quanto è difficile anche per alcuni cittadini arrivare a fine mese, però bisogna essere coerenti.